e intanto Jean Patry, noi siamo contenti di vederlo, di sentirlo per la prima volta, ma insomma questo è un altro dei francesi che parla bene italiano, eh? Allora, io la prima cosa che voglio dire, insomma, una partita che vi siete andati pure un po' a complicare voi, perché prima e secondo tempo, perfetto, tu hai giocato una grande partita, ma l'ha giocata la squadra, poi Verona è venuta fuori e quando le squadre, insomma, hanno i requisiti, poi si rischia qualcosa, avete rischiato fino in fondo. No, era, era difficile perché siamo partito molto bene, con molto di serio e abbiamo, sì, vinto due, due set molto bene e poi abbiamo perso questo terzo set e è mai facile di riprendere, di ripartire, perché il dubbi si si mette nella testa e e sono molto contento perché alla fine siamo andato a cercarla questa partita e abbiamo abbiamo fatto una bella cosa di rivenire così nella partita, credo. È importante partire avanti, adesso siete uno a zero, vi è andata a giocare già la qualificazione in questo, al playoff, quindi la quarta di finale domenica prossima, cosa insegna questa lezione di questa di questa sfida di stasera contro Verona, secondo te? Beh, che noi dobbiamo rilasciare mai, credo che si, abbiamo rilasciato come l'ho detto nel terzo set, è che sono le playoff e se facciamo così è pericoloso, credo. Dobbiamo avere la testa sempre sul campo e spingere, spingere senza mai rilasciare. È la chiave per vincere una partita di playoff soprattutto. Andrea Velasco, l'ultima battuta. Assolutamente, penso anche entrare con il gioco velocissimo di Sbertoli che ti dà opportunità di accelerare ancora di più e non è un caso che guarda un po' quando ovviamente il muro dall'altra parte ti tiene un po' e quando abbassi un l'efficienza d'attacco, tutta quanta la squadra ovviamente fa un po' fatica avendo panchettine che è andato comunque bene nella parte finale. Sì, è vero, è vero. Io devo lavorare un po' sulle palle così, rigiocare. Dobbiamo lavorare un po' più e lo facciamo, lo lavoriamo molto ma durante le partite non lo facciamo e dobbiamo farlo più, rigiocare quando la palla non è perfetta e avere la pazienza e può essere molto buona questa cosa. Allora, noi siamo in chiusura, rimane qui con noi, Gian Patrino, negli chiamiamo Fabio Crisafi, vi ricordo che questo ragazzo qui ha trascinato la Francia a Tokyo, sperando che ci sia perché ha fatto una qualificazione fantastica, lo vogliamo ricordare perché insomma da Cisterna è passata a Milano e adesso fa parte della nostra Superlega. Un saluto a Maurizio Colantoni, un saluto a Gian Patrino, ci vediamo domenica prossima. Ciao. Ciao, ciao.